Non vediamo l'ora di vincere la battaglia, lo ha detto oggi su Twitter Umberto Ambrosoli, candidato del centro-sinistra alla presidenza della regione Lombardia. Ambrosoli ha dichiarato che le regionali lombarde per la Lega Nord sono la madre di tutte le battaglie e noi non vediamo l'ora di vincerla. Roberto Maroni ha intervenuto chiedendo polemicamente se Ambrosoli ha qualche idea oltre l'ossessione antileghista. Beppe Grillo ha commentato che Ambrosoli è una brava persona ma poi quando si tratterà di svendere il welfare vedrà chi ha dietro di sé. Intanto l'avvocato dopo aver presentato i capolisti nelle 12 province lombarde della sua lista patto civico è intenzionato a restare poco tempo in ufficio e a iniziare una campagna elettorale tutta dedicata alla gente, al territorio e ai problemi più sentiti in Lombardia. Oggi ha affrontato il tema delle politiche sociali nella nostra regione. Le politiche sociali sono un punto necessario prima ancora che fondamentale come tutte le politiche che hanno al centro la persona. Quello che noi dobbiamo pensare è che la politica non è fatta per chi la gestisce, non è fatta per chi siede nei posti di potere, è servizio. I volontari hanno sempre messo una pezza là dove lo Stato o il pubblico non riesce ad arrivare. Questa è una delle forze della nostra regione. Non a caso io ho voluto coinvolgere nella mia lista, nel mio progetto questo mondo che è un rispondere laddove altri non sono capaci pur avendone il dovere di farlo. Portare queste energie, portare questo modo di intendere la responsabilità nella politica è la sfida che ci siamo proposti.